Mamma mia Eichel e Jekyll Sono Eichel, io Jekyll Nello scorso episodio ho parlato di Quacola che era contenuto proprio all'interno dello show di Eichel e Jekyll che sono invece una coppia di personaggi classici dell'animazione pensate che sono nati negli anni 40 prodotti dalla Terry Toon Cartoons in collaborazione con la 20th Century Fox i personaggi dovrebbero essere due gazze ma per me sono sempre stati due corvi non so per voi, in caso scrivetemelo e avevano un classico schema da avventure alla Bugs Bunny o da fidac che sia umoristiche, episodi brevi, divertenti e li replicavano veramente tantissimo sulle reti private ciao 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 ciao